Una terribile fatalità all'origine della tragedia che si è consumata nella mattinata di giovedì 1 settembre sulla strada provinciale 22 che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Un uomo di 65 anni, alla guida della sua auto in direzione Ostuni, è stato colto da malore, perdendo il controllo del mezzo. La Mercedes è andata così fuoristrada, terminando la sua corsa nelle campagne circostanti. A bordo dell'auto vioggiavano anche la moglie e i due nipotini del conducente. Fortunatamente rimassi illesi. I soccorsi sono stati chiamati dalla moglie dello sfortunato 65enne. Sul posto si è recata un'ambulanza del 118, ma i sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per restare dall'auto il corpo dell'uomo ormai senza vita e per mettere in salvo e al sicuro il resto della famiglia. I rilievi dell'accaduto sono stati effettuati dagli uomini della polizia locale di Ostuni competenti per territorio, ma sul posto erano presenti anche i colleghi della polizia locale di Ceglie Messapica.